Suli Costantin, 23 anni, rumeno, senza fissa dimora né lavoro, è stato sottoposto a fermo giudiziario dai carabinieri del nucleo operativo di Pesaro, coordinati dal tenente Massimiliano Iori, come presunto autore di una efferata rapina con pestaggio avvenuta al parco Miralfiore ai danni di un anziano 67enne di origine romagnole che si trovava di passaggio nella città di Pesaro. Il 23enne, che pare conoscesse molto bene il parco Miralfiore e la posizione delle videocamere, porta il 2 febbraio in una zona appartata all'uomo e a quel punto scatena tutta la sua furia in un pestaggio selvaggio, riducendolo in gravi condizioni. A quel punto si impossessa del suo portafoglio e gli porta via Bancomat, carta di identità e 250 euro in contanti e lo lascia tramortito a terra. Sarà la stessa vittima, a distanza di oltre tre ore dall'aggressione, quando riesce a dare l'allarme al 112 dei carabinieri, a chiedere soccorso. Sarà la prima pattuglia a intervenire sul posto, a ricevere le prime indicazioni da parte della stessa vittima, che saranno poi utili per focalizzare e individuare il presunto responsabile. Il presunto responsabile è che questa mattina è comparso davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia ed è stato trattenuto in custodia caudolare proprio per le gravi azioni criminose contestate. Si tratta di rapina aggravata nei confronti di persona, ai danni di persona, in condizioni di minorata difesa, sia per condizioni di età che per condizioni fisiche, e per lesioni gravi. Il malcapitato 67enne solo nella mattinata di oggi è uscito dal coma a seguito del trauma cranico e delle gravi lesioni che il rapinatore gli ha procurato, ma importantissime sono state le sue prime dichiarazioni subito dopo l'aggressione. Dal momento dell'aggressione, quindi appena abbiamo ricevuto la prima notizia, i componenti del nucleo operativo di radiomobile hanno svolto una incessante attività di ricerca nei luoghi che noi ritenevamo fossero quelli che lo stesso autore frequentasse normalmente. E così è arrivato il risultato positivo all'operazione. Proprio nei pressi della stazione ferroviaria, un maresciallo del nucleo operativo ha individuato l'odierno fermato e compreso, individuato attraverso un particolare, lo ha riconosciuto per come camminava. Avevamo naturalmente analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza esistenti presso la stazione ferroviaria di Pesaro e quindi questo particolare non è sfuggito all'investigatore. Molto bravo e attento e quindi che ci ha permesso poi, insieme ad altri elementi, di raggiungere questo risultato positivo.